ragazzi ho visto che le parole di Maldini hanno creato veramente ma veramente un audio social incredibile parliamo di tutto in questo video pre partita barra conferenza perché il mister ha parlato ci sono veramente dei passaggi da analizzare con molta attenzione prima di cominciare il video rapido supportino like al video commentate condividetelo iscrivetevi al canale raggiungendo i 1000 iscritti nel minore tempo possibile vorrete iscrivetevi al canale di dove batti osipiosef l'angolo rosso nero in live ogni martedì barra mercoledì uno dei due giorni alle ore 17.30 aggiorneremo tutti nella nostra community e ragazzi cosa molto importante lunedì alle ore 13.45 ho in mente di fare uscire un video molto importante con i motivi del più all in e i motivi del più all out andremo ad analizzare bene tutto e cercherò di darvi la mia analisi come un po' hanno fatto tutti per in qualche modo partecipare a questa sorta di sondaggio social che si è venuto a creare allora ragazzi le parole di Maldini hanno creato veramente scalpore tra i tifosi quando nel post partita contro l'Inter ha detto è vero che uscire con l'Inter fa più male e magari fa apparire il percorso peggiore di quello che è però alla stagione dovessimo entrare in Champions in campionato darei 8 allora ovviamente ragazzi scendete il Maldini tifoso che va all'organo stampa invocando investimenti per farle crescere il Milan e non fargli fare due passi indietro da Maldini figlioccio di Scaroni aziendalista perché queste sono parole da aziendalista e ovviamente il tifoso come me e il tifoso come voi non può essere in qualche modo felice di questa stagione però le parole di Maldini vanno lette così per il Montengaggi che ha il Milan il Montengaggi molto basso rispetto alle prime quattro d'Europa rispetto a magari Roma-Napoli anche Lazio credo che siamo a priorità con la Lazio Inter-Juventus eccetera arrivare tra le prime quattro e arrivare in semifinali di Champions League è un grande risultato Giroud ha rincarato la dose dicendo inizio anno arrivare in Champions League in campionato e in semifinali di Champions avrei messo la firma in due anni scudette e semifinale di Champions ora ovviamente io non posso dare un voto positivo alla stagione è vero l'otto lo puoi dare in Champions perché per me se arrivi in semifinale al di là di tutto è otto se arrivi in finale è nove se vince la finale è dieci ok queste sono più o meno la griglia e la scala di voti anche perché abbiamo fatto ottime prestazioni col Tottenham e col Napoli quindi non è stato ad culum ad muzzum siamo arrivati lì ecco in campionato non posso che dare quattro in Coppa Italia un altro quattro capite bene che poi alla fine il voto fa cinque cinque meno dalla stagione ed è un voto sicuramente sufficiente allora parliamo della partita che ci attende ieri Pioli insomma ha fatto qualche dichiarazione in conferenza stampa che mi ha lasciato alquanto basito perché? perché allora innanzitutto vorrei capire porca di quella puttana perché i giornalisti non fanno domande intelligenti domande che possono far capire perché cioè la mia prima domanda da giornalista sarebbe stato perché tu cinque volte hai affrontato l'Inter e l'hai affrontata sempre uguale durante tutto l'anno prendendola del culo quattro volte su cinque perché non hai fatto una sorta di variazione perché non hai cambiato qualcosa tatticamente perché l'hai affrontata col 4-2-3-1 pesante dopo che con la Lazio nel post partita hai detto effettivamente col centrocampista in più riusciamo a coprire meglio il campo attaccare meglio e difendere meglio chiusa questa magari sarebbe stata la prima domanda che per quanto mi riguarda avrei fatto da giornalista perché sono state domande del cazzo tra cui che voto della stagione giustamente Pioli dice a fine anno parlerò una cosa che non mi ha lasciato completamente d'accordo è stato quando ha detto cioè d'accordo in parte gli hanno chiesto qual è il più grave errore del Milan durante l'anno gli ha detto comunque che il peccato originale è la tre quarti perché il Milan ha fatto veramente tanta fatica soprattutto contro le squadre chiusa ma non è una novità anche l'anno scorso era così e qualche partita in più l'abbiamo vinta negli ultimi minuti quindi non è cambiato tanto e dalla tre quarti in su dalla tre quarti in su è il peccato originale perché sono venuti a mancare diversi giocatori sicuramente Frecciatina a Dechetelare Frecciatina a Rebic Orighi e così via però ragazzi ho detto una cosa che mi ha lasciato basito cioè ho detto la costruzione dal basso è migliorata allora che la costruzione dal basso è migliorata cioè se tu ti focalizzi sul dato il Milan ha più possesso palla dell'anno scorso ma perché questo? perché le squadre hanno capito che lasciandoti la palla e chiudendosi tutti dietro non convidi un cazzo quindi la nostra costruzione dal basso no? è stata quella molte volte del derby di ritorno Magnan Calabria Calabria Magnan Magnan ciao ciao Tomori Tomori Teo Teo Tonali Tonali Magnan Magnani Calabria Calabria Magnan Magnan Magazzo ciao cioè questa è stata la costruzione dal basso capite che queste dichiarazioni non reggono e e mi hanno fatto girare parecchi coglioni perché a mio modo di vedere Pioli un po' è entrato in confusione anche durante le interviste ragazzi a me il Pioli che si è presentato al Milan e ha detto a questa squadra una delle prime partite che è proprio dove è stato allenatore del post partita a questa squadra non fa differenza se perde o pareggio non cambia nulla ragazzi questa è una bellissima frase è una bella frase cioè che proprio ti descrive in una frase esattamente cosa passava dalla testa dei giocatori cosa c'era da migliorare questa è stata la forza del Milan da qui si è ripartito poi ricostruendo un gruppo super vincente andando a ultra performare post covid eccetera e prima ci dicevano che erano perché gli stati non c'erano i tifosi e poi perché eravamo miracolati l'ester d'Italia ragazzi il percorso del Milan è stato un percorso enorme noi siamo passati sesti da sesti a secondi con una rosa non da secondo posto dal secondo al primo l'anno dopo con una rosa non da primo posto quindi ci sono stati post covid due anni e mezzo tre di grande Milan ok quindi non si può raccontare tutto i miracolati sono quelli che vincono un anno a culo ma poi arrivano sesti 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 continuano a fare cagare il Milan ha over performato di più e non mi lascio neanche contento alla formazione che lui vuole mettere in campo perché ancora una volta nonostante le difficoltà di Diaz perché a questo punto mi chiedo se esiste la democrazia nello spogliateo del Milan scusate la meritocrazia perché io vedo ancora Diaz in campo oggi dopo prestazioni orribili partita dopo partita dopo partita la formazione che in mente rischierà il nostro mister contro la Sampdoria è ma non importa difesa dei titolari con Teo Tomori Ciao Calabria Tonali Cronici a centro campo Leao Brandi Iaz Balottaggio Messias Salmacher e come unica punta Ciro ragazzi ora obiettivamente a me questa formazione non mi lascia contento perché proprio lui sbugiarda le sue dichiarazioni proprio le sbugiarda le sbugiarda perché tu non puoi dirmi che col centrocampista muscolare col trequartista muscolare attacchi meglio difendi meglio sei più compatto e poi ritorni al 4-1 pesante ancora cioè io va bene che i numeri non sono tutto nel calcio per il Milan e col 4-2-3-1 pesante ragazzi ha vinto il 40% delle partite addirittura il 39,2 cioè ragazzi meno del 40% delle partite e tu ancora continui questo è un modulo che agevola ha tanti elementi a rendere meno perché Diaz centralmente soprattutto con le squadre di cui si fa fatica perché viene imbrigliato nelle marcature Leao non ha la controparte della fascia opposta che gli libera persone e allora compie la difesa avversaria a fare una scelta ma mettendoci messiasso se il mega ragiavoli la Sampetoria che si sposterà tutta la di Leao ragazzi sono cose che io dico da inizio anno e sono cose che puntualmente quando Piole ha fatto mi ha ascoltato ma non è che ha ascoltato me ha ascoltato anche molti di voi perché effettivamente non ci vuole un genio per pensare queste cose siamo andati bene noi abbiamo fatto ragazzi le migliori partite dell'anno con Cruici trequartista Pobeca trequartista o Berasset trequartista in base alle caratteristiche dell'avversario mi viene in mente anche la partita persa l'andata col Napoli è stata una delle migliori in campionato Juventus-Milan le due partite col Napoli il Milan ha giocato veramente bene quelle partite Mila-Lazio quindi porca di quella puttana perché ha cercato di caricare l'ambiente Pioli nel post partita cioè nella conferenza stampa dicendo se la Sampetoria non ha più nulla da perdere gioca con orgoglio gioca con dignità perché noi non dovremmo farlo arrivato a questo punto della stagione molti l'hanno letta come una frase per mettere la mano avanti io l'ho letta invece come una frase per cercare di caricare la squadra perché dice ragazzi miei se la Sampetoria è retrocessa lotta per ormai solo per onorare noi invece che abbiamo ancora un obiettivo da inseguire sarebbe il quarto posto sul campo perché non possiamo fare altrimenti perché non possiamo fare lo stesso niente ragazzi obiettivamente io non capisco è utile che poi faccio durare questo video più lungo del solito perché molta motivazione ne parleremo del video di lunedì incentrato su Pioli speriamo ragazzi di vincere questa partita perché non vincerla sarebbe sarebbe catastrofico al di là della possibile penalizzazione della Juve al di là che poi noi entreremo in campo entreremo in Champions comunque veritatamente perché di base avremmo fatto meno schifo di quelle che stanno sotto di noi la Juventus io non l'ho mai contato da inizio anno perché addirittura se voi rimanete al giornale del mio canale soprattutto tramite gli shorts da inizio anno che dico ragazzi se le Juve non l'ho contato in classifica non l'ho contato in classifica perché la leveranno perché la penalizzeranno ancora eccetera eccetera spiegando anche agli amici juventini che magari si facevano un po' plagiare dalla stampa filo juventina come realmente stavano le cose quindi ragazzi noi dobbiamo innanzitutto pensare di andare in Champions perché c'è veramente un enorme lavoro da fare al mercato e spero che questo lavoro venga fatto al giorno 1 con un'unità di intenti come ho detto spiegato nel video di ieri si traccia una linea rimane Pioli ma subito va deciso Maldine Massara ci sono proprio motivati a continuare con la proprietà in un'unica direzione benissimo subito via il mercato perché noi dobbiamo arrivare alla turnia americana con l'80% della nostra disposizione poi serviranno un panchinaro e forse poi ti puoi lasciare per l'ultimo giorno di mercato l'ultimo titolare forte forte se un giocatore è già pronto ma io devo avere la rosa subito al completo per permettere al mister che sia Pioli o un altro di preparare la stagione al meglio perché un'altra stagione di merda con il mercato che inizia 40 giorni dopo io da tifoso non la voglio di vivere e non la meritiamo non la meritiamo siamo stati fantastici quest'anno soprattutto io purtroppo non abito a Milano se non lo avrei fatto ma i tifosi del Milano quest'anno sono stati meravigliosi veramente meravigliosi detto questo ragazzi il video finisce qui fatemi sapere cosa ne pensate vi ricordo lunedì ore 13.45 i motivi delle Piolin e Pioli Out vi ringrazio vi auguro buon pranzo ci vediamo con il video post partita bella raga bella raga ciao a tutti i